No, ma sbaglia sempre questa curva. No, ma comunque c'è negli interni, non era la curva, no, era un problema. E' l'ho buttato via. E' l'ho buttato via. Tutto a sinistra Edo! 193 quadri Leonardo Pizzini alla quarta posta, questi quattro rider... Bravo Marti! Bravo! Bravo Marti! Bravo Marti, Giro, Gero, Gero... Giulio, Gero, Gero... Giulio, Gero, Gero... Giulio e Mauro... Giulio e Mauro, Matteo... Giulio e Mauro e Maddino Stato... Giulio e Mauro Pizzini. Grazie.